Bella raga, siamo tornati. Bella raga, so. Nameless. Ha iniziato piovendo, infatti qua c'è una bella paltaia. Scarpe diverse. Scarpe diverse. Ieri mi sono dimenticato l'attacco del microfono, quindi facevo finta di usarlo. Spettacolo, tutti ci credevano. Quindi oggi lo useremo davvero e faremo un po' di clip. Com'è la situazione? Fa un caldo che non ti dico. Però, viva i maiali. Viva i maiali. Sento odore di bosco. Eh, sì, anch'io. Odore di bosco. Bosco però, quello... Questo è James' Hype, raga. Se non venite un festival del genere, non avete idea di che cosa si prova. È assurdo. Qual è il tuo sogno più grande? Fare il casino. Qual è il tuo sogno più grande? Non lo so. Non è il mio sogno più grande? Andare in moto. Davvero? Eh sì. Ma come? Perché non ha la patente della moto. A me piacciono le vespe vecchie, però non le moto. Boom, boom. Allora mi sa che non possiamo andare d'accordo. Si finisce qua allora. Esatto. Guardate quante luci dietro di me. Pazzesco. Qual è il tuo sogno più grande? Qual è il tuo sogno più grande? Diventare la persona più simpatica nel mondo. Ma secondo te ci sta riuscendo? Secondo me non troppo. Non c'è la base. Non è nel moto giusto. Non c'è la base. È un'intervista. Eh sì, ma è per te. È fantastica. Non so mai. Hai risposto alla domanda? Onde è che devo cosa devo raccontare? Devi raccontare quel tuo sogno più grande. Io voglio diventare un'attrice. Un'attrice? Ma voglio essere prima di tutto felice in questa vita. Qualsiasi cosa fa? Un'attrice felice di nome? Carolina. Carolina. No, non lo chiedi il nome a te. No, non sei simpatica. Come pensavi? Il sogno va male. Dovevi pensarci meglio. Ok. Ok. Allora, qual è il vostro sogno più grande? Il nostro sogno più grande? Diventare come te. Diventare te. Io da grande voglio essere te. Davvero? Davvero, te lo giuro. Però quando uno dice la verità è giusto dirla. E che cazzo? Che bello, mi fa piacere. E già. Posso farti una domanda? Dai. Qual è il tuo sogno più grande? Allora, io faccio il necroforo, il becchino, faccio i funerali e quindi il mio sogno è diventare la prima ditta della provincia di Como. Bomba, bomba, ottimo. Saffrini, onoranze e punibri. Siamo tornati a fare la solita domanda. Cioè, qual è il tuo sogno? Iniziamo con i miei soci che abbiamo incontrato qua. Dai, sentiamo. Qual è il tuo sogno? Trovare una figa con i soldi. Qual è il tuo sogno? Eh, correre e tanta patata, tanta patata. Onesto, onesto. Il tuo? Il mio sogno? Sì. Vivere la vita al meglio che si può. Anche il microfono. Sì, ma sei avanti. Guarda, hai tempo che stava peggio, ti posso assicurare. Guardi una domanda. NCH. Sì. Qual è il tuo sogno? Qual è il mio sogno? Sì. Diventare milionario. Cazzo. Posso farvi una domanda? Certo, dimmi. Qual è il vostro sogno? Vai te, vai te. Finire gli studi. Il prima possibile. Il prima possibile. Esatto. E poi finirli con un bel voto. E poi magari trovare subito il lavoro tipo 15 giorni dopo. Ottimo. Magari lei risponde meglio. Allora, il mio sogno penso sia... Non c'è che non ne ho la più palida idea questi su due piedi. Dai, frinata, pensi radioponici. Penso a farla giornalista. E trovare un bel posto di lavoro anch'io. Possibilmente avere una famiglia. Ok. Sei. Sì, ci sono. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno... Andare su Marte. Oh, spettacolo. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è svegliarmi freddo, cazzo. Oh, il mio sogno! Vai, ragà! Pingere, cazzo. Sgrande, Nemlest. Oggi voglio farti una piccola intervista, se vuoi. Qual è il tuo sogno? Solo questa domanda. Andare a Caponord. Veloce. Qual è il tuo sogno? Domanda difficile. Come? Difficile? No, non si dice, però non si avvera. Prima. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è essere super, super, super felice. Sempre. E qua? Sei felice? Sono felice, sì. Sì, ottimo. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Let's go. Siamo a Torello qua. Questa è la situa. Qua giocia un malissimo, malissimo. Oh, i coglioni. Ho malissimo i coglioni. Ehi, ehi. Ehi. Can I give you another question? Where are you from? L.A. L.A.? Mexico. Mexico? Sì. Can I ask you a question for you too? Dime. Dime. What's your dream? My dream? Yeah, your dream. Is to have fun in life. Yeah. And to enjoy the world. Yeah. Like it is right now. I like it. I like it. That's also my dream, bro. Don't die miserable. Look for your dreams. And accomplish them. That's the lifestyle. That's the lifestyle. Be you who you are. Who you want. And don't let anybody tell you otherwise. Because if they do, they're going to hold you down. Don't let people hold you down. Have fun. Like him. He's having a good time, right? Yeah. Interviewing me. That's what he likes. Man. I don't know how you say that, but you're amazing. He eats eggs! No, he's amazing. Because he's doing what he loves. It's giving him pleasure. Life is awesome for him. Look at him. You have to do the motivator. You're the number one. You're the number one. I love you. The next day. Quarto e ultimo giorno di Nameless, ragazzi. Ok, iniziamo con l'intervista. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno? Cazzo ne so io, qual è il mio sogno. In questo momento non ne ho di sogni proprio. In questo momento zero sogni. Qual è il nostro sogno? Che finisca la fame nel mondo. Esatto, che finisca la fame nel mondo. Ti stai dicendo, raga, di vivere davanti a nude. Ma sei subriaca. Abbasso la guerra. Un vino del tutto. Va bene. La benzina. Porco cari, quello è assolutamente. È un sogno, eh? Quello è un sogno, quello è veramente un sogno. Qual è il vostro sogno? Girare l'America. Bello, bel sogno. Da nord a sud. Girare tutto il mondo. Ecco, che cazzo, hai ragione. Avere un sogno. Buon festival. Grazie. Capito una domanda. Tuo sogno? Essere felice. Ti stai divertendo qua? Sì. Non sei convintissima però. No, non mi piace tanto. Come no? Perché? Aspetto che arrivi qualcuno di più bravo. Ci sta. Tuo sogno invece? Casa alle Maldive. Si può fare, si può fare. Quando è che pianifichi il viaggio? Qualche anno. Te lo auguro. Buon festival. Grazie. Il mio sogno è avere il lavoro che mi piace di più nella vita, ovvero essere un osteopata. Osteopata? Sì. Stai studiando per essere osteopata? Esattamente. Te lo auguro. Grazie. Posso farti una domanda? Vai. Qual è il tuo sogno? Essere felice. Sei felice qua? Sì, qua sì. Dai, allora divertiti. Grazie. Prossimo. Devo chiederti qual è il tuo sogno? Essere libera. Sempre. Dai, qua siamo abbastanza in mood per essere liberi. Tutti i giorni così. Però per fare tutti i giorni così qua in Italia bisogna andare... All'estero. All'estero, giusto. Brava, brava. All'estero, è vero, hai ragione. All'estero. 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 Ci sta, ci sta. Te lo auguro. Grazie. Buon nameless. Vai, dimmi. Qual è il tuo sogno? Ah, diventare direttrice di un museo. Scemo scemo. Sì? Dammi gomma gomma. Io ti do una gomma gomma. Tu nuovo scemo scemo. Tu dammi gomma gomma. Sì, ok. Bel sogno. Buon nameless. Grazie. Non smarvi una domanda. No, no. Era semplice. Qual è il tuo sogno? Eh, non è semplice. Avere una famiglia bellissima. Oddio. Vabbè. Buon nameless. Raga. Mi ha copiato la maglia. Uno dei tuoi deve togliere adesso. Togliate. Sì.